Grazie, che belle canzoni questa sera, allora mi fate intanto ringraziare Marco Petrozzi, responsabili del Talent e anche Alessio Romani e Luigi Notte, dobbiamo sì, grazie a loro e al loro lavoro naturalmente, hanno scelto anche delle belle canzoni, bei titoli, infatti sui titoli c'era quella canzone, cambiare effettivamente è vero, gli uomini sono molto spesso cambiano anche le donne, soprattutto quando diventa mamma, la donna è portata a cambiare, a cambiare i pannolini. Io se c'è una cosa che non capisco, però non è vero che tutte le canzoni poi ci hanno, io non ho capito quella canzone di prima, mi sei scoppiato dentro il cuore e canta Mina, come se uno dice, sono nel deserto, sono nati via tutti, canta Bobbi Solo, cioè che... però uno alla romana, no? Senti che puzza di pesce, canta Alice, cioè delle volte non riesco a... No, no, c'ha ragione, c'ha ragione, è come se voglio dire il titolo della canzone, non ti voglio più bene, canta mal. Eh, è vero, è vero, è sta cosa buona.